Tu non ci puoi andare. Se sei un idiota è perché lo sei. E basta. Non c'è alcun bisogno di scomodare Fedor. Oh, la migliore interpretazione teatrale di Il Vonte, sei in quel che fai un libero professionista, quindi lo puoi fare. Te lo dice il signore. Anche il pecoraio può fottere la pecora senza farla belare. Tutto è possibile, purtroppo, anche che tu possa ragliare o abitare un grattacielo a Manhattan, farti un cocktail come si deve e lasciarti cadere giù senza prendere l'ascensore per vincere la sfida a chi scende più velocemente all'inferno. Si narra che l'inventore del mondo sia un certo Meucci. Se è vero, non lo so, ma quantomeno lo ha cambiato dopo aver supplicato la schiera delle ombre di comunicare tra loro fuori dal palazzo di Circe. Sparsi per campi e monti e resti, sott'acqua e lacrimati, sepolti. Questa è l'attualità. È bastata un cambio di rotta e già siamo al 7 d'aprile 2020. E dai, che non ci volevo venire, eppure mi hai fatto ritornare qua, dove non ti puoi permettere nemmeno di accostarti al fiato. Il corpo non ha sangue come un vampiro, te lo dovrai cercare. Se lo trovi occupato o riservato, prego, ricordati di me, sono un passionale. Poi non per nave si andrà, ma comunque a vela andremo, raggiungeremo l'isola di Enea, lontani dalla casa di Ade. So già tutto, mi chiedi perché, l'ho fatto resuscitare e non l'ho interrogato. Ho voluto approfittare dell'imminente Pasqua, del suo rientro al paesello natio, d'apio, uomo, qual è? E se, girando, si è esclamato, bestemmiato, Dio, che ne so io! Se ne è tornato con la zecca Carbugli, dove stava, con la sua anima bruciata in un luogo, tipo pittura di Chagall straordinario, dove anche lì si aggirano caprette e caproni. L'ho incontrato, sai, mi ha chiesto se volevo fare la tessera associativa, che sarebbe bastata scambiarci un po' di pennelli e dipingere una nuvola. Mi sto dilungando, lo so, ma la consapevolezza dell'illusione, della costrizione materialistica temporale fa male, ed è necessario per cedere energia, non altro che trasmetterla. Ma sembra facile, e lo è, basta scrivere un atto poetico come questo, con la consapevolezza che libera!